La prima cosa che vorremmo vedere insieme oggi, sempre ispirata sulla visione, sulla visione di Dio per la nostra vita, è appunto questa, che quando la tua visione diventa un piano di azione, quella visione diviene missione, diciamo insieme, quella visione diviene missione, e il visionario diventa missionario. Dio alla persona vicino a te, quando la visione diviene missione, il visionario diventa missionario. A sentirvi parlare a voi sembra che l'ho detto in inglese, va bene, dai. Quando una visione diventa un piano d'azione, il visionario diventa missionario, e quella visione può trovare la sua realizzazione. Ecco perché è importante sempre sapere, tanta gente ha dei sogni, tanta gente ha delle visioni, ma non tutti si svegliano e li realizzano. Ecco perché è importante sapere che la visione, senza un piano d'azione, è un'illusione, non si realizzerà da sola. Dio ha scelto di realizzare i suoi progetti e i suoi piani in cooperazione con l'uomo, in cooperazione con me, in cooperazione con te. Ecco perché la visione, il primo punto che voglio farvi vedere è che la visione è per fede. La visione è per fede, tu non puoi adempiere una visione senza fede. La fede in Dio, fede, avere fede in Dio è anche avere una visione, e avere una visione è avere fede. La fede, in secondo Corrinzi 5,7, dice che camminiamo per fede e non per ciò che vediamo. La fede va oltre ciò che vedi. La fede condiziona ciò che vedi con ciò che credi. Infatti un'altra traduzione, New Living Translation, dice camminiamo credendo, non vedendo. Camminiamo credendo, non vedendo. Dillo insieme a me, camminiamo credendo, non vedendo. Questo non significa che siamo ciechi, ma significa che Dio ha una visione più potente, più grande, più ampia, superiore alla realtà che tu vedi. Infatti tu non cammini per ciò che vedi, tu cammini per ciò che credi. Il tuo credo è ciò che dà vita e realizzazione a una visione. La visione è per fede. Il secondo punto che voglio farvi vedere è che appunto la fede ha gli occhi della visione. Così come la visione è per fede, così la fede ha gli occhi della visione. La fede sono gli occhi della visione. E tu puoi vedere quella che è nata prima nel cuore di Dio, l'idea di Dio, che è arrivata nel tuo cuore per un download spirituale. Tu stai con Lui, spendi tempo con Lui, spendi tempo alla Sua presenza. E allora ecco che una visione ha come impatto su di te, trova una collocazione in te, hai delle impressioni spirituali, hai delle immagini, hai delle visioni che a volte ti arrivano come per piccoli pezzi di un puzzle. Non capisci il quadro generale, ma sai qual è il prossimo passo, e poi qual è il prossimo passo, e poi qual è il prossimo passo. La visione è chiara agli occhi di Dio, è chiara a Dio, ma diventa poi sempre più chiara nella tua vita man mano che tu metti fede nella visione, man mano che tu agisci nella visione. Infatti la fede, la visione è per fede, e la fede sono gli occhi della visione. L'incredulità crede quello che vede, ma la fede vede quello che crede. Siete tutti con me? L'incredulità crede quello che vede, accetta quello che vede, si accontenta di quello che vede. Anche noi ad esempio qui potremmo essere soddisfatti con ciò che abbiamo visto, e ciò che stiamo vedendo, ma la fede, la visione di Dio non si soddisfa con ciò che vedono gli occhi umani. Noi possiamo vedere una parte del puzzle e possiamo essere contenti, soddisfatti, ma Dio ha il quadro generale davanti ai Suoi occhi. Dio non ama solo te, Dio ama anche le generazioni dopo di te, Dio non ama solo chi abita al tuo indirizzo, Dio ama anche quello che abita al numero dopo e al numero prima e al numero prima ancora. Tanto è vero che se tu permetti a Dio di regnare nella tua vita, se tu permetti a Dio di regnare nella tua casa, tu vedrai non solo la tua vita cambiare, ma tu vedrai la vita di tutte le persone attorno a te cambiare. Tu puoi essere il pastore della tua palazzina. Tu puoi essere il pastore del tuo ufficio. Tu puoi essere l'uomo, la donna di Dio, la persona che ha occhi di fede, per chi magari è cieco spiritualmente. L'incredulità accetta, crede quello che vede. La fede non si accontenta di quello che vede, la fede guarda nell'invisibile. Come diceva ora Roberts, se tu puoi vedere l'invisibile, tu potrai fare l'impossibile. Lo voglio dire di nuovo, se tu puoi vedere l'invisibile, tu potrai fare l'impossibile. Fino a dove arrivano i tuoi occhi. Che cosa stai vedendo? Dov'è che stai ponendo fede? Io voglio porre fede nella visione di Dio, nella visione di Dio per la mia vita, nella visione di Dio per la mia casa, nella visione di Dio per la mia chiesa. Ecco perché è importante far parte di una famiglia spirituale, far parte di una chiesa dove c'è visione. Perché a volte tu ti aggrappi alla visione, a volte tu ti agganci a una visione, e può sembrare all'inizio che sei tu che fai forza, sei tu che spingi, sei tu che supporti, sei tu che incoraggi, sei tu che muovi la visione. Ma più rimani agganciato, più vieni incollato a quella visione, e più poi sarà Dio e la sua visione a portare anche te. Ci sono certe benedizioni che arriveranno nella tua vita soltanto perché sei sotto quell'ombrello spirituale, quel quadro generale che Dio ha, che si chiama visione. La visione di Dio è per le generazioni, la visione di Dio è per le città, la visione di Dio è per le nazioni. Quando Dio ha parlato ad Abramo, gli ha detto io attraverso di te benedirò le nazioni della terra. Ogni volta che Dio ha parlato ad un uomo, Mosè, Mosè, ho udito il grido del mio popolo, io ti mando a liberare la nazione di Israele. Quando Dio chiama una persona, quando Dio chiama una chiesa, Dio ha sempre in mente una nazione, non una regione, non un quartiere. E la visione ti fa vedere oltre ciò che vedi e ti fa credere come Dio crede. E quando tu inizi ad avere questa immagine nel tuo cuore, inizi ad agire in modo diverso. Il terzo punto infatti è che la fede ti muove verso la visione. La visione richiede fede. La fede sono gli occhi della visione. La fede ti fa vedere nella visione. E la fede ti muove verso la visione. Questo è importantissimo. Anche per quelli di ragazzi giovani che magari non sono ancora sposati, o anche per quelli meno giovani ancora non sposati. Con Dio c'è speranza per tutti. Qualcuno dica me. La fede ti muove verso la visione. Infatti, se sogni di servire il Signore con la tua vita, sai, se Dio ti ha rivelato una parte del puzzle dove la visione ti indica che tu servirai Dio con la tua vita, muoviti in quella direzione. Non andare ad esempio a metterti con una persona che sai ostacolerà sempre quella visione. Sarebbe una scelta contraria alla visione e quindi una scelta non ispirata dalla fede ma ispirata da altro, da un sentimento magari o da un bisogno, un bisogno di appagare un desiderio, un bisogno di appagare una mancanza, il senso di solitudine o il desiderio di sposarsi, di farsi una famiglia. È meglio essere soli e felici in fede che in due infelici nell'incredolità. Perché dico questo? Perché molto spesso quando tu e apro una parentesi questo è gratis, va bene? quando tu ti sposi con qualcuno i due diventeranno una cosa sola dice la scrittura spiritualmente e se quella persona cammina cammina come te segue quella visione insieme potrete fare delle distanze insieme voi potrete vedere la visione schiudersi schiarirsi adempiersi ma se uno tira da una parte uno tira dall'altra o se uno sta fermo e si mette a volte di peso di punta tu farai una grande fatica e poi magari puoi dire signore ma perché? e il signore ti dice perché non hai fatto una scelta di fede in accordo alla visione e dove non ti muovi con la visione ti stai muovendo verso la divisione dove non ti muovi per la visione di Dio ti stai muovendo per la tua o quella di qualcun altro e Dio benedice sempre la sua visione God's will God's bill la volontà di Dio il conto di Dio il progetto di Dio e a volte uno dei prezzi più alti che stiamo pagando nella nostra vita lo stiamo pagando perché anziché muoverci per fede verso la visione stiamo combattendo la visione ma Dio e i suoi modi non potranno mai cambiare solo per non offenderti alleluia mi sono fatto un paio di nemici qua con sta frase ma ve la dico lo stesso dai la speranza dice un giorno sarà mio un giorno farò questo per il signore un giorno Dio aggiusterà le cose un giorno lei cambierà un giorno io darò un giorno io pregherò la speranza lo dice ma la fede dice è mio adesso lo faccio adesso agisco adesso la fede chiama le cose che non sono come se fossero la fede vede le cose che non sono come se fossero la fede parla in modo diverso la fede ha un suono ha un suono tutto particolare e tu puoi capire da una persona quando ci sta insieme se sta in fede ascoltando il suono che esce dalle sue labbra la fede ha un suono la fede ha un profumo tu puoi capire se una persona è in fede se sta emanando quando parla con te il profumo di Cristo oppure se mentre sta parlando con te c'è stanchezza tristezza morte che profumo stai mandando tutto dipende dalla fede tutto dipende dalla scelta che stai facendo dalla visione che stai seguendo la visione ti farà fare le scelte giuste la visione ti muoverà verso il piano di Dio perché il piano di Dio è la visione gloria a Dio ecco perché è così importante è così importante fare parte di una chiesa locale che abbia una visione una visione così ampia che ti possa dar spazio anche a te di esprimere i tuoi doni possa dar spazio anche a te di crescere sia una visione così grande che non si spaventa se arriva uno con i doni una visione così grande che non si spaventa se arriva una persona talentuosa se arriva una persona con capacità anzi ti dico una cosa se hai capacità se hai talenti mettili a disposizione in questa casa mettili a disposizione del Signore se tu hai dei talenti dei tesori e non li stai mettendo a disposizione del Signore stai derubando la chiesa di un dono che Dio ti ha fatto per la chiesa se Dio ha messo una grazia sulla tua vita particolare e tu la trattieni vuoi per paura vuoi perché hai paura di non essere accettato approvato stai derubando te stesso della tua soddisfazione perché quando fluisci nei tuoi doni sei più felice sei più soddisfatto e stai derubando la chiesa perché nessuno ha la grazia che tu hai nessuno sarà funzionare come tu puoi funzionare in quella misura di grazia in quel ruolo e tu stai derubando te e la chiesa di quella grazia che Dio ti ha concesso quanto è importante una visione quanto è importante sentirsi parte di una visione quando hai la visione di Dio quando sei parte di una visione che viene da Dio ti svegli la mattina con entusiasmo ti svegli la mattina che già sai cosa fare forse è una torta ma è una torta in accordo alla visione è una torta che copera per la visione forse forse è semplicemente guidare fin da qualche parte come abbiamo fatto ieri con Enzo siamo andati fin dopo Firenze e poi siamo tornati andati e ritorno siamo partiti alle sei e mezza di mattina siamo tornati alle tre e mezza di pomeriggio semplicemente perché la visione richiede un pianoforte migliore e l'abbiamo trovato lì l'abbiamo trovato lì in offerta l'abbiamo trovato lì sono i soldi dell'opera di Dio perché non non provare a risparmiare perché non mettersi in macchina dare un giorno al Signore fare dei chilometri per il Signore la visione è qualcuno magari che viene due ore prima che magari suda si impegna si sporca a volte si acciacca un'unghia a volte va via tardi perché il giorno dopo si deve svegliare anche presto ma va via tardi perché suda fatica prende una cassa in mano sposta un microfono metta a posto ma perché lo fa perché fa parte di una visione perché si sente parte di una visione perché la visione all'inizio ha bisogno del tuo aiuto ma più tu aiuti e più ti renderai conto che sei tu che hai bisogno della visione all'inizio tu la porti dopo un po' è lei che ti porta alleluia e Dio cerca persone che abbiano fede per vedere la visione fede per udire anche il suono della visione per udire il bisogno della visione quante volte Dio io sono sicuro che già qua in questa stanza chi ci sta seguendo da casa o in televisione sono sicuro che già a volte Dio ha provato a parlarti su un aspetto della visione ha provato a parlarti a convincerti in qualcosa ha provato a farti sentire magari un bisogno ha provato a mettere un po' dei suoi pesi sulle tue spalle e magari tu forse come io provi a resistere e dire no ma no signore manda lui ma no signore lei è più brava ma no se Dio sta bussando alla porta della tua vita se Dio decide di fidarsi di te fai una bella cosa fidati di Dio fidati di Dio non dire no a Dio se Dio ti sta dicendo questa cosa tu la puoi fare questa cosa tu la puoi comprare questa cosa tu la puoi portare non dire di no a Dio perché ho imparato una cosa che tutto ciò che Dio mi chiede quando Dio mi chiede qualcosa in forma di seme è perché ha sempre in mente un raccolto per me a volte un seme può essere il tuo tempo 3T siete pronti il seme può essere il tuo tempo il seme può essere il tuo talento il seme può essere il tuo tesoro e non a caso sono le tre cose che cerchiamo di nascondere sempre di più talento il tempo e i tesori ho imparato una cosa quando io apro il mio tempo a Dio Dio benedice il mio tempo e riesco a fare le cose migliori in meno tempo quello che magari per un'altra persona ci possono volere 15 giorni Dio te lo può dare a te in due minuti vi ricordate la storia di quando Pietro andò a pescare Gesù gli disse lancia all'altro lato gli studiosi hanno determinato che ciò che lui ha preso in due minuti equivaleva a 15 giorni di pesca quello che tu non puoi fare in 15 giorni quando apre il tuo tempo a Dio Dio lo può fare per te in due minuti a volte non vogliamo aprire le nostre finanze i nostri tesori a Dio perché abbiamo paura se io do a Dio perdo ma posso dirti una cosa tutto quello che io ho provato a tenere per me a comprare per me è sempre andato perso a volte è perso in un cassetto a volte è perso in un garage a volte è perso nel secchio dell'immondizia perché si è rotto ma tutto quello che ho dato per l'opera di Dio tutto quello che ho lasciato nelle mani di Dio non è andato mai perso è stato sempre ritrovato a volte da me a volte da qualcun altro quando tu permetti a Dio di entrare anche nei tuoi tesori tu vedrai i tuoi tesori moltiplicare tu vedrai i tuoi tesori valorizzati e lo sto dicendo perché voglio ti voglio sfidare a mettere Dio alla prova alcune volte le persone dicono dare la decima a Dio mi sembra troppo inizia a dargli una percentuale inizia a dirgli Signore è l'unico passaggio della Bibbia dove Dio dice mettetemi alla prova mettilo alla prova e dì ok Signore io per il 10% non riesco ancora a credere però al 2 sì mettilo alla prova e vedi che succede quel mese mettilo alla prova dice Signore posso credere per il 5 mettilo alla prova a volte non è che Dio ti benedice solo in finanze che entrano a volte Dio ti benedice anche in finanze che non escono riconoscete questa benedizione macchine che non si rompono frigoriferi che funzionano lavatrici che non si fermano case che vanno alla grande favore divini anche quando dovete comprare casa favore divini nel prendere un mutuo favore divini nel prendere un finanziamento favore divini dice ma perché tutte succedono a te perché a te sì e a me no guarda fratello io non so quello che tu fai con il tuo seme non so se lo semini o se lo mangi io posso dirti una cosa che se io mi mangio il seme mi brucerò il raccolto ma se io semino il seme mi garantisco il raccolto è così Diego prima di concludere voglio invitare un attimo Diego a prendersi alcuni minuti perché Diego è un esempio di fede è un esempio di una persona che vive per fede che ha fatto grandi passi per il Signore amén gloria a Dio abbiamo un Dio meraviglioso io volevo solo raccontare brevemente di quello che ho sperimentato nella mia vita non ho capito tutto di Dio ma una cosa ho capito che se obbedisci alla voce di Dio se cammini per fede appunto come diceva Francesco non per visione veramente possiamo vedere delle grandi cose nella nostra vita non so se lo sapete ma io fino a tre anni fa ero a Torino a 600 e passa chilometri da qui con mia moglie perché sono nato lì lavoravo lì con un lavoro a tempo indeterminato e appena ho conosciuto mia moglie la cosa che ci ha diciamo legato era proprio il desiderio che avevamo entrambi di servire Dio e questo è valso più di ogni cosa più di ogni compatibilità che può essere umana questo era il desiderio del nostro cuore vedere di aver trovato finalmente una persona come me disposta a fare anche pazzie per il mondo ma per seguire la voce di Dio allora questa è stata una delle tante cose che ha fatto scattare ancora di più la scintilla e poi da lì a poco ci siamo sposati e passando dei mesi noi avevamo la certezza che avremmo servito Dio insieme avevamo la certezza che avremmo ci saremmo anche spostati dalla città dove eravamo perché sentivamo che c'era qualcosa da qualche altra parte da fare ma lì dove vivevamo non trovavamo diciamo questa guida da parte di Dio sicuramente a Torino ci sono tante visioni ma forse non c'è quella che era la nostra visione e oggi col seno del poi capisco il perché Dio ci ha portato qui ma tutto è iniziato appunto come si diceva prima con un passo di fede perché noi camminiamo per fede e non per quello che vediamo io cosa vedevo? avevo una bella casa avevo un buon lavoro tempo indeterminato un lavoro anche di diciamo di responsabilità avevamo un servizio in una chiesa molto grande a Torino eravamo tutti due attivi nel ministero non eravamo a girarci il pollici per intenderci però siamo arrivati a un punto in cui ci stava stretto tutto quanto perché sapevamo che Dio aveva qualcos'altro in mente per noi e la cosa che noi abbiamo fatto un giorno dopo che abbiamo anche conosciuto il pastore Francesco ci ha dato delle parole di incoraggiamento e abbiamo potuto conoscere anche quella che è la sua visione ai tempi c'era un college biblico c'era una scuola biblica e c'era appunto una chiesa nascente e quando noi abbiamo sentito questa visione appunto il nostro cuore ha iniziato a battere e allora abbiamo capito veramente dove Dio ci voleva portare e così questo è successo tutto ad una conferenza appena siamo tornati a casa e mia moglie ci siamo guardate e mi ha detto bene cos'è la prima cosa che possiamo fare e la cosa più lunga che richiedeva del tempo era la disdetta dell'affitto della casa che richiedeva sei mesi un gesto folle perché a 600 km da qui e non sapevamo veramente quello che Dio voleva ma avevamo in mente chiara la visione che Dio aveva per noi avevamo stampato in testa quello che noi volevamo fare che era il desiderio che Dio aveva messo nel nostro cuore e appunto noi camminiamo per fede e non per visione se avessi camminato per visione io e la mia famiglia non ci saremmo mai mossi da lì perché quello che vedevamo obiettivamente era buono una buona chiesa in cui servivamo un buon lavoro una bella casa eravamo vicini alla famiglia ma noi siamo chiamati a camminare per visione così ve la faccio un po' breve perché la storia avrebbe tanti aneddoti che poi se li volete scoprire magari un giorno ci pigliamo un caffè insieme e ve li racconto tutti ma Dio è stato fedele in ogni piccolo passo della nostra vita perché Dio è fedele perché quando tu semini tempo quando tu semini a volte anche rischi per il regno di Dio Dio ricompensa sempre e io posso dire a distanza di tre anni a me e la mia famiglia non è mai mancato nulla non perché mi affatico per lavorare non perché ho un buon lavoro non è niente di tutto questo perché non ho credetemi non ho nemmeno un reddito garantito perché lavorando improprio non è più il tempo che passo servendo Dio che non quello che passo lavorando ma gloria a Dio non manca a me nulla in casa mia perché Dio è fedele perché Dio è fedele perché se tu impari a camminare per quello che è la visione che Dio ha messo nel tuo cuore vedrai grandi cose vedrai grandi cose gloria a Dio la fede è la cosa più importante che noi possiamo veramente sperimentare nella nostra vita è la cosa diciamo di base è la cosa bella è che non dobbiamo neanche sforzarci perché Dio ha messo nei nostri cuori la sua fede perfetta noi dobbiamo solo imparare ad obbedire e camminare dove lui ci guida dove lui ci porta amè amè gloria a Dio una cosa importante che Diego magari anche non ha detto che credo sia fondamentale è anche questa che quando loro si sono spostati qui all'inizio non c'era una visione chiara si vedeva solo piccoli pezzi del Paso non c'era nemmeno una visione chiara per quello che sarebbe stata la loro vita e tante volte sono stati anche assaliti dai dubbi perché la fede non è assenza di dubbi ma è la forza di andare oltre i dubbi quando tu dici Dio mi ha dato una parola Dio mi ricordo a volte dove non avevano una casa e stavano a vivere con una signora lì in un seminterrato umido ti ricordi Diego che erano a volte e a volte anche magari avevano delle piccole frizioni tra moglie e marito perché magari dice ma è Dio che ci ha parlato non è Dio ma come mai siamo in questa situazione la fede non è assenza di difficoltà la fede è la forza che ti fa andare oltre le difficoltà e la visione ti alza anche quando sotto le sabbie iniziano ad essere mobili la visione è come quella mongolfiera che ti stacca da terra e ti porta e ti porta in avanti e ti porta dove il vento di Dio sta soffiando e tu non devi mai aver paura di seguire la visione perché la visione attirerà sempre la provvigione per la tua vita oggi Diego insieme a sua moglie all'inizio tre anni fa anche pensavano di non voler avere bambini oggi grazie a Dio c'è una nipote è vero all'inizio non sapevano come avrebbero fatto con il lavoro oggi Diego insieme a sua moglie da soli hanno messo insieme un lavoro che è tutto 100% cristiano praticamente sviluppano siti web grafiche e diverse altre cose video tutto per ministeri grandissimi in Italia in Svizzera e in tantissime altre parti del mondo praticamente Dui serve Dio e servire Dio è diventato anche il suo lavoro non è meraviglioso l'obbedienza a Dio farà la differenza nella tua vita l'obbedienza non significa che non ci saranno momenti dove ma è stato veramente Dio che me l'ha detto ci sono capitati penso ti sono capitati assolutamente la cosa appunto volevo riprendere il discorso quando Francesca ha detto siamo rimasti senza casa sì in questi tre anni è vero all'inizio in un momento di crisi anche se vogliamo un po' di divisione c'è stato un momento in cui non abbiamo neanche avuto una casa sono stati veramente lo raccontavo giusto ieri ai ragazzi a Velletri è stato forse i momenti più difficili della vita sia mia che quella di mia moglie che soprattutto insieme proprio perché poi quando viene a mancare tutto da sotto è anche facile arrivarsi a scontrare con la persona che ti sta più vivendo vicino eppure ritornando al discorso appunto dell'agganciarsi con fede alla visione la cosa che ci ha fatto stare fermi è stata quella signore se tu hai detto questo se tu ci hai mandato qui noi non ce ne andremo via di qua finché tu non ci dirai che cosa fare molte volte può succedere un terremoto intorno a noi può crollare tutto ma se tu ti agganci alla parola di Dio per te per la tua vita tutto attorno può crollare ma tu non crollerei mai e la cosa che ci ha fatto stare saldi e ci ha fatto restare qui è gloria a Dio che siamo rimasti qui perché i pensieri sono arrivati ha detto ma torniamocene su il lavoro non va non abbiamo una casa la visione in quel momento la nostra visione stava stava vacillando e a quel punto abbiamo detto ma torniamocene su abbiamo le famiglie il tempo di riprenderci però la cosa che ci ha fatto andare avanti è stato proprio dire no Dio ci ha parlato ci ha detto di venire qui Dio non è psicopatico ve lo garantisco Dio non è psicopatico non cambia idea dice no scusami me l'ho sbagliato fai le valigie e torna su io credo in un Dio che è un Dio di sì e di amen è un Dio che la sua parola è talmente vera è talmente efficace che lui ha detto una volta sola nella storia sia la luce e ogni mattina possiamo vedere la luce ogni giorno perché la sua parola è potente e se Dio ha parlato alla tua vita rimani fermo in quello che ti ha detto e noi a distanza di tempo possiamo dire che quei pochi mesi quel frangente in cui tutto è crollato all'ancora della nostra salvezza è stato restare attaccati alla parola di Dio perché superato quella tormenta abbiamo iniziato a vedere il favore divino abbiamo iniziato a vedere la casa che è arrivata una bella casa grande che avevamo e ora grazie Dio ancora più bella la casa che abbiamo gloria a Dio abbiamo iniziato a vedere come il lavoro iniziava a procedere e soprattutto gloria a Dio oggi posso dire che anche ho la benedizione di servire in una visione dove non voglio dare il cento per cento ma di più ancora se possibile perché noi non stiamo servendo Dio per una chiesa noi stiamo servendo Dio per una città per una nazione come diceva prima Francesco grazie grazie gloria c'è una frase che ho preparato per voi che voglio vedere in conclusione che ha detto Cristoforo Colombo siete pronti? non potrai mai attraversare l'oceano se non avrai il coraggio di perdere di vista la costa detto da lui non potrai mai attraversare l'oceano se non avrai il coraggio di perdere vista la costa la costa a volte è ciò che conosci lasciare la costa ti costa a volte la costa è ciò che conosci è ciò che è facile è la routine è ciò a cui si è abituato anche a livello spirituale ma Dio non ti chiama a stare a un livello di fede per tutta la vita Dio ci chiama a muoverci di fede in fede Dio non ci chiama a fare qualcosa per lui e farlo per sempre Dio ci chiama ad allargare i nostri orizzonti continuamente l'unica cosa che lui ti chiede è di esserli fedele e fedele a volte significa fare il passo uno e poi il passo due e poi il passo tre e poi il passo quattro senza mai stancarsi e so che alcuni magari qui possono aver detto Signore ma ci ho provato e non è andata ho fatto tanti passi un tempo per te ma ora non mi sento più di farli ma voglio dirti una cosa con il Signore davanti a Dio anche se hai fallito questo non fa di te un fallito con Dio fallire non significa finire con Dio tu puoi fallire ma ti puoi rialzare con Dio tu puoi fallire ma non devi finire a volte una chiesa ti può aver deluso un ministerio ti può aver deluso e questo ti può far dire non ci voglio credere più non voglio darmi più per una visione non voglio darmi più per un'opera ma Dio sapeva benissimo cosa avresti passato sapeva benissimo cosa avresti sperimentato non lo hai preso di sorpresa non lo ha preso di sorpresa chi magari ti ha ferito o chi tu hai ferito la sua grazia e la sua misericordia si rinnovano ogni mattina e Dio ancora oggi ti chiede entra a far parte della mia visione agganciati in una visione più ampia che potrebbe essere la visione della chiesa qui per Roma dove tu potrai sviluppare quella tua forse visione servizievole come quella di Diego una visione che fa tutto l'aspetto mediatico segue tutto l'aspetto grafico mediatico per la chiesa e siamo un po' invidiati da tutti per Diego e sua moglie lo vogliamo dire in tutte le chiese qui per vi dicono avete le grafiche migliori le grafiche migliori vengono da qualcuno che ha avuto fede perché la visione si porta avanti solo con uomini e donne di fede se noi vogliamo vedere la chiesa che a Roma può fare la differenza in modo particolare nelle generazioni più giovani c'è bisogno di persone come me come te che dicano sì alle sfide di Dio che dicano sì alla visione che dicano sì a fare passi di fede nel nome di Gesù Amen e Amen diamo gloria a Dio 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 Grazie a tutti.